Pablo Saavedra, capitano del Grosseto, bella partita stasera a Montecchio, le tue impressioni? Sì, diciamo che è stata una partita molto difficile, si sapeva su una pista complicata dove tante squadre importanti hanno perso punti. Per noi era fondamentale perché si viene una vittoria molto importante in casa con il Sarzana. Oggi questi tre punti per la classifica sono veramente molto importanti, ci danno fiducia per affrontare il Bassano prossimo sabato nella Coppa Cers. Grosseto va a 35 con i punti di stasera, se non andiamo errati, resta nella zona altissima della classifica, come hai detto tu, sabato a Bassano dopo una sconfitta in casa. Come affronta questa partita il Grosseto che è determinante per il proseguo in Europa? Sicuramente affronteremo la partita bene, con tanto lavoro durante la settimana, quindi siamo consapevoli che stiamo giocando bene, stiamo facendo le cose per bene, andremo a vincere e poi vedremo. Ultima cosa, dove vuole arrivare questo Grosseto, visto dove si trova in questo momento del campionato in classifica? Sicuramente ora le aspettative sono alte, però noi non pensiamo troppo in là, noi pensiamo adesso all'allenamento in allenamento, lunedì, martedì, poi vedremo. Sicuramente giocando così arriveremo lontano. Ti ringraziamo per la disponibilità, ti facciamo i migliori auguri per il proseguo e un buon rientro questa sera in Toscana. Ciao, grazie. Grazie mille.